Una giornata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, quella organizzata domenica a Campobasso dall'Associazione Libera Luna Ollus e patrocinata dal Comune. L'occasione per parlare del progetto che sta dietro tutta l'iniziativa di Viva Vittoria. Per l'evento finale ogni partecipante ha realizzato dei quadrati di maglia lavorati ai ferri o all'uncinetto da cucire con un filo rosso per formare coperte che rivestiranno Piazza Vittoria Emanuele II. Abbiamo realizzato queste coperte che coloreranno la piazza, saranno vendute per poter fare una raccolta fondi per il centro antiviolenza Libera Luna e durante la giornata abbiamo pensato di creare dei momenti di intrattenimento. Quindi ci saranno dei momenti musicali con Luigi Farinaccio, con Federica Tronca e Marco Libertucci, poi ci saranno alcune associazioni perché devo dire che questo progetto ha messo insieme tante persone e tante associazioni. Ci sarà Artamo che esporrà e spiegherà di alcuni vestiti che in qualche modo parlano della donna, parlano dell'emancipazione della donna, officina creativa e il maestro Fornaro che farà una breve esibizione di difesa personale. Quindi tutte esibizioni legate in qualche modo a quello che è l'argomento della giornata, che poi è il 25 novembre la giornata contro la violenza sulla donna, però diciamo che noi abbiamo voluto dedicare il 20 proprio perché il 25 ci sono tante manifestazioni per poter dare spazio a quello che è il fenomeno della violenza sulle donne. L'iniziativa, illustrata in conferenza stampa in Comune, si svolgerà dunque domenica dalle 9 alle 19 in piazza Vittorio Emanuele II a Campobasso per lanciare un messaggio forte e chiaro. No alla violenza, ma no alla violenza detto insieme. Quindi ogni quadrato che è stato creato in quest'ultimo anno per Viva Vittoria è un quadrato di una persona che vuole dire no alla violenza. Quindi se ci uniamo perché la violenza è un problema culturale e sociale, uniti possiamo prevenirla e contrastarla.